Ciao a tutti, sono Vladlena e vi presento una nuova storia originale sul mio canale Una storia d'amore. E prima di guardare, iscriviti e lasci un mi piace. I lati insistevano sulla celebrazione. Scopri che le madri dello sposo e della sposa avevano un sogno comune. Volevano celebrare il matrimonio dei loro unici figli tra parenti e amici. I giovani decisero di non negare questo desiderio ai loro genitori. Giovanni non aveva idea di quanti problemi questa concessione avrebbe comportato. Trovare un ristorante con una sala, un maestro di cerimonie e musicisti. Pianificare il menù, assumere un decoratore, scegliere un fotografo e un operatore, e molto altro ancora. Non aveva nemmeno voluto pensare a quanto tutto questo avrebbe comportato in termini di spese. Tuttavia, i genitori li stavano aiutando con l'organizzazione della festa, ma ancora. Deve essere di altissimo livello, assicurava la madre dello sposo. Anna, tu e Elena meritate questo. Giovanni sorrideva silenziosamente. Capiva bene che le madri desideravano mostrare ai loro amici e parenti quanto fossero benistanti attraverso un ossuoso matrimonio. Se devo essere onesto, è solo per fare bella figura. Il giovane accettava con indulgenza l'ambizione della madre, così come faceva suo padre. Se lo desidera, allora così sia. C'era un'altra ragione per cui Anna si sforzava, e si preoccupava tanto, i genitori di Elena. Il padre della sposa, Dmitri, occupava una posizione di alto livello nell'amministrazione della città, e sua moglie lavorava lì anche. Erano persone rispettate e benestanti. Anna si rallegrava del fatto che suo figlio unico, la sua speranza e il suo sostegno, sarebbe entrato in una famiglia del genere. Ma allo stesso tempo temeva che sembrassero parenti poveri in confronto. E se Giovanni iniziasse a vergognarsi dei suoi genitori? Questa era una possibilità che Anna non poteva contemplare, quindi faceva del suo meglio per adattarsi. Aveva persino preso un prestito per coprire parte delle spese del sontuoso matrimonio, e aveva intenzione di persuadere suo marito a prendere un prestito ancora più grande dopo la festa. Dopo tutto, dovevano aiutare il figlio a comprare una casa. Naturalmente, il padre della sposa avrebbe potuto sicuramente fornire un alloggio ai giovani, ma Anna non voleva rimanere indietro, anche se sapeva che sarebbe stato difficile. Molto difficile. Giovanni, guardando l'agitazione di sua madre, iniziò anche a farsi coinvolgere dalla febbre prematrimoniale. Prima, non aveva mai pensato di sembrare un traditore davanti ai genitori di Elena, specialmente considerando che lavorava per una grande azienda in crescita e aveva recentemente comprato una costosa auto di cui andava molto fiero. Ma sua madre aveva così spesso sottolineato le differenze tra loro e la famiglia di Elena, cercando di mascherare quel divario. Che Giovanni iniziò a rifletterci su. E aveva ragione. Elena aveva viaggiato all'estero fin da giovane e viveva nel lusso. Giovanni era stato a casa sua. Era una villa a due piani con piscina e giardino. E cosa poteva offrire a lei? Un mutuo e una vita stipendio dopo stipendio? Bene, almeno era apprezzato dalla sua azienda e il suo stipendio stava crescendo costantemente. Ma comunque, in effetti, né Elena né i suoi genitori avevano mai espresso disappunto per la situazione di Giovanni. Conoscevano bene la sua situazione. Il giovane non aveva mai nascosto nulla. Dimitri era orgoglioso dei successi del futuro genero. E perché no? Dopotutto, aveva completato l'università con un eccellente voto. Ed era entrato nella più prestigiosa azienda della loro città direttamente dalla scuola. Inoltre, grazie alle sue eccellenti competenze linguistiche in inglese, era stato promosso rapidamente a un ruolo di responsabilità nel Dipartimento degli Acquisti Esteri. La sua conoscenza dell'inglese era interamente merito di sua nonna Lydia. Aveva insegnato tutta la sua vita. Era una donna meravigliosa, gentile e intelligente, sempre comprensiva nei confronti di Giovanni. Questa donna aveva cresciuto suo figlio, il padre di Giovanni, da sola. Suo marito era morto in un incidente poco dopo la nascita del loro primogenito. Quindi Lydia aveva dovuto fare tutto da sola. Aveva alzato, educato e messo in piedi suo figlio. Non era stata una passeggiata. Dalle storie della nonna, Giovanni sapeva che i salari degli insegnanti in quegli anni erano miseri e spesso in ritardo. Lydia faceva lavori extra dove poteva. Faceva ripetizioni, lavava i pavimenti nel corridoio e vendeva giornali in un chiosco di sera. Madre e figlio vivevano al limite della povertà, ma ce l'avevano fatta. Poi è diventato più facile. Il padre di Giovanni è cresciuto, ha completato l'istituto e ha cominciato a guadagnare. Inoltre, i tempi sono cambiati. Signora Lydia ha iniziato a lavorare in una scuola di lingue dove i salari erano molto più alti. La sua vita si è sistemata. Presto, l'unico figlio si è sposato e in giovane famiglia è nato un bambino. Giovanni, fin dalla sua giovane età, trascorreva spesso del tempo con sua nonna Lydia. Lei era già in pensione, quindi aveva il tempo di prendersi cura del bambino quando era malato. Quando il ragazzo è cresciuto un po', è stata sua nonna a prenderlo a scuola e a portarlo alle attività extrascolastiche. Giovanni amava visitare sua nonna. Nelle sue stanze non c'erano mobili costosi o giocattoli e avevano bisogno di una ristrutturazione da tempo. Ma proprio nella piccola e pulita casa di sua nonna, il ragazzo si sentiva calmo e rilassato. Era un porto sicuro dove poteva sfuggire a tutte le preoccupazioni e le ansie. Giovanni sapeva di essere amato qui e di essere sempre il benvenuto. Lydia ha continuato a lavorare a lungo. Faceva ripetizioni e faceva traduzioni per le case editrici. Ma sembrava che tutto questo non portasse molti soldi. La donna viveva in modo molto modesto, suscitando sincera sorpresa e persino disapprovazione da parte della madre di Giovanni. Non potevi comprarti un cappotto nuovo o una borsa? Che tipo di mentalità da mendicante è questa? Esclamava Anna dopo un incontro casuale con la suocera per strada. È persino imbarazzante salutarla e parlare con lei. Sembra una barbona qualunque. Lei stessa aveva appena comprato una bellissima pelliccia. È vero, ha credito. Dovrà pagare un po' di più, ma sembra una regina. Inoltre, Anna si è sempre lamentata dei regali troppo modesti da parte della suocera. Il suo unico nipote. Egli ha regalato una sciocchezza di plastica cinese da 5 centesimi per il compleanno. Giovanni era abituato a queste osservazioni fin da bambino. In quei momenti provava pietà per sua nonna, ma non osava contraddire sua madre. Dopo tutto, faceva così tanto per loro. Lavorava, faceva il bucato, puliva. Faceva lavori extra solo per assicurarsi che suo figlio non avesse bisogno di nulla. Era esausta. No, Giovanni non poteva farla arrabbiare. Soprattutto perché Lidia, la nonna, era una persona saggia e paziente. Non si offendeva mai con la nuora, anche quando questa la disprezzava apertamente. Trovava sempre una risposta per placare la situazione. Giovanni rimase impressionato da questa abilità straordinaria di sua nonna e cercò di imitarla. Ed ora è arrivato il momento del matrimonio. La madre vuole che tutto sia perfetto. Sta aiutando nella preparazione e sta seguendo tutti i dettagli. Dopotutto, ci saranno molte persone importanti alla cerimonia. Ci saranno molti ospiti importanti da parte di Elena. Parenti, colleghi di suo padre. Capisci che tutto deve andare al massimo livello? Niente e nessuno deve rovinare questo evento. Capisco. Annui Giovanni. Certo. Capisco. Hai un atteggiamento troppo serio verso tutto. È quello che capisco. Quindi, non capisci, sospirò sua madre. No, no, disse il ragazzo sorridendo. So quanto tutto questo sia importante per te. E quindi, come figlio grato, prometto di fare tutto ciò che dici. Se questo evento è così importante per te, farò in modo che si svolga esattamente come hai immaginato. Ecco, è perfetto, disse felice la donna. Ho una grande richiesta per te. È meglio non invitare tua nonna Lidia all'evento. Non si adatta, sai. Cosa? Il padre, che aveva taciuto fino ad allora, tossì il suo caffè. La decisione di sua moglie era una novità per lui. Cosa cosa? Ripete Anna. Arriverà di nuovo con un vecchio vestito e regalerà qualche sciocchezza economica. È imbarazzante davanti agli ospiti. E non ti sembra che sia stata praticamente la madre dello sposo? Ricordò il padre di Giovanni. Abbiamo lavorato costantemente. Chi ha preso Giovanni quando era malato? Chi lo ha portato a scuola e alle attività extrascolastiche? Beh, e allora? Anna cercò di obiettare. I miei genitori lo portavano in vacanza con loro. Al mare, niente di meno. Quasi ogni anno. Mamma, è troppo. Tentò di obiettare Giovanni. La nonna è una persona molto cara per me. E allora vai a farle visita con una torta. Siedi e bevi tè insieme. Ma non c'è bisogno di portarla al matrimonio, insistette Anna. Immagina come si sentirebbe tra questi ospiti. E neanche lei si sentirebbe a suo agio lì. Pensa ai suoi sentimenti. E Giovanni ci pensò. Forse mia madre ha ragione? La ama molto anche se, davvero non si inserirebbe tra la compagnia di invitati accuratamente selezionati. Sono tutti ricchi, con auto costose. E mia nonna e mio nonno dalla parte di mia madre non sono da meno. Hanno creato un'immagine di persone rispettabili e di successo per tutta la vita. E Lydia? Giovanni pensò al suo vecchio cappotto logoro. Alle scarpe con le punte consumate, alla borsa con la maniglia logora. In passato lo prendeva con leggerezza e naturalità. Forse nemmeno prestava attenzione a queste piccolezze. Ma ora? Forse mia madre ha ragione. Non dovremmo invitare mia nonna. Lei non se la prenderebbe, capirebbe tutto. Lydia è così. Giovanni non ricordava che si fosse mai arrabbiata. Aveva un carattere straordinario. Forse è per questo che aveva così tanti amici. Spesso, gli amici andavano a trovare sua nonna. E il telefono non smetteva mai di squillare. Vicini di casa, ex colleghi, ex studenti cresciuti. A molte persone piaceva l'atmosfera di calma e calore che emanava dalla nonna. Lydia sapeva sempre cosa dire per sostenere una persona. Per aiutarla a superare le preoccupazioni. Probabilmente sarebbe stata una psicologa eccezionale. E ora, la situazione era imbarazzante. Giovanni, ovviamente, lo capiva. Ma sapeva che sua nonna avrebbe capito tutto come si deve e non se la sarebbe presa. Era meglio parlarle anziché litigare con sua madre. Era già nervosa. La conversazione, naturalmente, si prospetta sgradevole. Sua madre gli ha detto che è lui a dover dire alla nonna che non è invitata al matrimonio. Vai da lei con una torta e dille semplicemente che stiamo festeggiando in famiglia, istruiva Anna il figlio. Non c'è niente di male in questo. Questi tipi di celebrazioni per i vecchi non vengono nemmeno più organizzati. E cosa ne dici dei tuoi genitori? Ha chiesto suo padre. Li ha invitati. E i miei genitori? La donna ha messo l'accento sulla parola miei. I miei genitori daranno una grossa somma di denaro ai giovani come contributo aggiuntivo all'acquisto della casa. Sarà un bel sostegno. Quindi non fare questi confronti. Ed ecco Giovanni in piedi con una torta in mano davanti alla porta di casa. Per la prima volta prova sentimenti così contrastanti sulla soglia dell'appartamento della nonna. Oh, ecco sua madre con il suo matrimonio da principessa. Hanno pianificato un banchetto per le persone VIP. Persino la nonna preferita non è invitata. E non c'è nulla da dire contro di questo. Davvero, Lydia non si inserirebbe in questa compagnia. Il nipote Giovanni è stato per Lydia come un raggio di sole. Una luce nella finestra fin dal suo stesso giorno di nascita. Quando suo figlio le ha detto che presto avrebbero avuto un bambino, la donna non aveva idea di quanto avrebbe provato sentimenti teneri per lui. Non ha mai provato lo stesso affetto per suo figlio. Lydia ha cresciuto suo figlio da sola. Ha lavorato molto, quindi non poteva dedicare abbastanza tempo a lui. Ma voleva davvero portare il ragazzo a teatro, al cinema, leggergli libri, parlare con lui su vari argomenti. Ma allora aveva una missione diversa. Sopravvivere. Guardando il suo piccolo nipote, Lydia sognava di dargli tutta l'attenzione che non poteva dare a suo figlio. Fortunatamente, ci è riuscita. Non lavorava più, faceva solo lavori occasionali come insegnante e traduttrice. Aveva un orario flessibile e libero. Tra tutti i membri della famiglia, era Lydia l'unica persona che poteva dedicarsi completamente a Giovanni. La donna si è in mera volentieri nei compiti legati al bambino. Poteva portarlo al cinema e al teatro, leggergli libri e, fin dai primi anni, insegnargli l'inglese. Grazie a questa competenza linguistica, il ragazzo è stato il migliore nella sua classe in inglese e ha vinto diversi premi in diverse olimpiadi. In seguito, la sua padronanza della lingua gli ha aiutato a ottenere un lavoro ben remunerato in una società dove lavorava. Era bello che Giovanni riconoscesse a chi doveva questo successo. Quel giorno, il nipote corse dalla nonna, la abbracciò e le disse con gioia che ora era il capo del Dipartimento degli Acquisti Internazionali. Il mio unico vantaggio rispetto agli altri candidati era la conoscenza della lingua. Se non ti fossi occupata di me fin dall'età di tre anni, nulla di tutto ciò sarebbe accaduto. Quanto ti sono grato. Ma eri un ottimo studente e amavi la materia da solo. Non credi che io capisca, nonna? È stato grazie a te che ho sviluppato l'amore per l'inglese. Ricordo come inventavi giochi interessanti in modo che le lezioni non sembrassero noiose. E sei un ragazzo attento, sorrise Lidia. Era felice per suo nipote. Era così giovane e aveva già raggiunto così tanto nella sua carriera. La sua sincera gratitudine le ha riscaldato il cuore. Non ci sarebbe stato alcun successo senza il tuo carattere. Fin da bambino sapevo che avresti realizzato molte cose, disse orgogliosa la nonna. Peccato solo che le cose non siano andate bene con la nuora. Anna ha sempre pensato che avrebbe perso molte opportunità sposando il figlio di Lidia. No, lui ha sempre dato il massimo. Lavorava, manteneva la famiglia e non trascurava i compiti domestici. Ma la nuora sognava di avere un reddito più alto. Non una volta ha fatto intendere alla suocera che sarebbe stata felice di avere il supporto dai genitori da entrambi i lati. Solo i suoi genitori si stavano impegnando. Hanno contribuito all'acquisto dell'appartamento. L'hanno aiutata a comprare una macchina e portano il bambino al mare ogni anno. Ma cosa poteva fare Lidia? Era abituata a vivere in modo semplice, senza lussi. Aveva altre priorità, altre gioie. Almeno con Giovanni non le vietavano di comunicare. Anzi, quando il ragazzo era piccolo, praticamente viveva con sua nonna. I tuoi genitori sono davvero troppo audaci, sospirava la vicina Tatiana. Ti hanno scaricata con il bambino e vivono per il loro piacere. E per me è anche meglio, rispondeva Lidia. Beh, guarda come sai. Cosa volete, come pensate, rispondeva la donna. Io, ad esempio, non permetto alle mie figlie di appoggersi a me. E ora Giovanni è diventato uno sposo. Alto, attraente, intelligente e divertente. Il sogno di ogni ragazza. Il nipote aveva parlato della sua fidanzata. A giudicare da tutto, Elena era una persona meravigliosa. Gentile, calma e sensibile. Ed è così che Giovanni descriveva la futura moglie, mostrandole le foto. La ragazza si è rivelata anche una bellezza. La sposa aveva genitori facoltosi. Il nipote ne aveva accennato di sfuggita. Probabilmente, per la fidanzata, questo fatto era motivo di orgoglio. Lidia era felice per Anna e anche per se stessa. Finalmente, il suo sogno si stava avverando. Presto la donna sarebbe stata parente di persone influenti. Tutto stava andando bene per tutti. Era ora di preparare una sorpresa. È vero, non è ancora del tutto pronta, ma non è così importante. La famiglia principale del figlio sarà felice, soprattutto Giovanni. È stato per lui che Lidia ha lavorato così duramente. E poi è ora di iniziare a prepararsi per il matrimonio. Doveva andare a fare shopping con la sua vicina Tatiana domani, cercare un vestito. Durante le festività. Doveva apparire in modo degno in modo che suo nipote potesse essere fiero di lei. All'improvviso, alla porta è suonato il campanello. Un visitatore indeciso, forse. Chi può essere a quest'ora così tarda? Forse Tatiana è venuta a condividere qualche notizia prima di andare a dormire. La donna aprì la porta. Sulla soglia c'era Giovanni. Dall'aria imbarazzata del nipote, Lidia capì subito che si trattava di una conversazione difficile. Il suo cuore si strinse di apprensione. Vedendo sua nonna, Giovanni si sentì ancora più agitato. Come sempre, il suo volto si illuminò di una sincera e felice espressione quando vide la sua adorata nonna. Era così felice di vederla. Ma come poteva dirle che non era invitata al matrimonio? Come poteva fare questa rivelazione con delicatezza? Il ragazzo passò nella cucina e si sedette a un tavolo. Lidia si affrettò a servire il tè, a tirare fuori i biscotti da dietro i contenitori e a sciacquare le tazze. Cos'è che c'è di male a questa ora? Non è successo niente, vero? E sei anche così triste. Non è successo niente, nonna. Siediti. Dobbiamo parlare. Mi stai spaventando, ammise Lidia, sedendosi accanto al nipote. Capisci? È proprio un matrimonio. Tutti sono eccitati, ne sono stufi. In generale, ci saranno degli ospiti, principalmente giovani, e, beh, come dire. Giovanni ha provato mentalmente il suo discorso diverse volte, ma guardando sua nonna non riusciva a riunire il coraggio di dirle direttamente la notizia. Conosceva perfettamente l'importanza che sua nonna attribuiva a tutto ciò che accadeva nella sua vita. La notizia del matrimonio aveva emozionato e commosso profondamente l'anziana signora. Certamente, non poteva neanche immaginare che non fosse stata invitata. È davvero difficile, disse Giovanni. Dai, ti aiuterò, rispose dolcemente sua nonna Lidia. Aveva iniziato a intuire cosa stava cercando di dire suo nipote ed era riuscita anche a capire chi fosse dietro a questa decisione. Sentiva compassione per il ragazzo, che stava cercando in modo così doloroso di comunicare una notizia spiacevole. Beh, sì, aiutami, abbassò gli occhi Giovanni. A sua nonna era sempre riuscito a trovare una soluzione anche per le situazioni più complicate. Forse poteva farlo anche stavolta? Mi sembra che il numero di posti nel ristorante sia limitato. Giusto? Chiese Lidia. Sì, il ristorante non ha una sala molto grande. E? E non potete invitare tutti quelli che volete, giusto? Sì, abbiamo invitato i genitori e principalmente giovani, solo i parenti più stretti. Oh, esitò Giovanni, non pensare che tu non sia uno dei parenti più stretti, volevo dire. Non preoccuparti così tanto, sorrideva Lidia, coprendo la mano del nipote con la sua. Questo gesto familiare rassicurò Giovanni e lo fece rilassare notevolmente. Va bene così? Disse Lidia. Non ti senti offeso, vero? Perché dovrei? Chiese sinceramente la donna. Questo è un matrimonio, una festa allegra per i giovani. Nemmeno io volevo andarci, ma non te l'ho detto. Ovviamente. Davvero? Giovanni si illuminò. Avevo così paura di dirtelo. E tu mi hai spaventato con il tuo arrivo così tardi e con quel volto cupo, disse Lidia. Pensavo che fosse successo qualcosa di veramente grave. Lidia iniziò a preparare una tazza di tè per suo nipote, che ora se ne andava. Quando Giovanni se ne andò, la donna rimase a riflettere. Era abbastanza perspicace da capire cosa stava succedendo. Sua nuora semplicemente si vergognava di lei, della povera parente. Non voleva che i genitori influenti di Elena vedessero la nonna dello sposo con una vecchia borsa in mano. Forse anche l'antipatia giocava un ruolo. Lidia aveva cercato di sostenere la famiglia di suo figlio in tutti i modi possibili. Ma Anna era rimasta fredda e distante. La nuora spesso comunicava con lei a malapena. E quando lo faceva, lo faceva con riluttanza e senza ringraziamenti. All'inizio aveva persino espresso il desiderio che i genitori, o meglio, la madre del marito, contribuissero in modo più sostanziale alla famiglia dal punto di vista finanziario. Poi, dopo aver parlato con la madre di Anna, Lidia aveva capito la situazione. La nonna di Anna da parte del padre era diventata quasi un mostro, che si inseriva costantemente nella vita della famiglia, esigendo attenzione e avanzando pretese. Anna era cresciuta con la consapevolezza che la madre del marito era il nemico numero uno. Così era diventata l'atteggiamento della giovane e intelligente nuora nei confronti della sua tranquilla e intelligente suocera. Aveva frainteso da subito e aveva sempre trovato qualcosa su cui lamentarsi. Lidia non aveva mai cercato un trattamento speciale. Le bastava che la nuora non vietasse al nipote di comunicare con lei. Ma sapeva che esistevano casi in cui le nonne erano allontanate dalla vita dei loro cari. Lidia aveva sentito parlare di cose del genere. Dopo che Giovanni era andato dalla nonna Lidia, venne a trovarla la sua vicina Tatiana. Voleva chiedere alcune uova per preparare una frittata per suo marito. Tatiana aveva capito subito che c'era qualcosa che non andava con la sua amica. «Perché sei così silenziosa e strana?» chiese l'acuta Tatiana. Lidia raccontò tutto alla sua vicina. Vivevano una accanto all'altra da molti anni e avevano l'abitudine di confidarsi i loro segreti più intimi. «Oh, mamma mia!» esclamò emotivamente Tatiana. «Quindi, quando si tratta di invitarti a un matrimonio, non sei parente stretta, ma quando si tratta di ereditare, improvvisamente diventi parente più stretta. Per favore, smettila!» chiese Lidia. «Comprendeva che l'amica era arrabbiata per lei, ma le parole di Tatiana le facevano male. E hai detto a lui?» domandò Tatiana. «No, non ancora, non è il momento giusto. E allora non dirglielo ora, se sono così sfacciati. Risolveremo in qualche modo», sorrise Lidia. Giovanni tornò a casa di buon umore. L'incontro con sua nonna Lidia aveva alleviato il peso della sua anima, come sempre. Era abituata a calmarlo, sostenendolo e incoraggiandolo. La nonna non si era offesa per non essere stata invitata al matrimonio. Capiva la situazione e aveva trovato il modo di rassicurare Giovanni, facendolo sentire meglio. Ora poteva continuare a prepararsi per il grande giorno. Ne mancavano solo tre giorni. Dopo il matrimonio, la vita sarebbe tornata alla normalità. Non vedeva l'ora che arrivasse. Pochi giorni prima del matrimonio, un corriere si presentò all'ufficio di Giovanni. Dopo aver confermato il suo nome e cognome, gli consegnò una busta spessa contenente documenti. Giovanni firmò la ricevuta e strappò la busta aperta. All'interno c'erano documenti, una chiave e una lettera. Giovanni riconobbe subito la calligrafia di sua nonna. Non si aspettava questo. Aveva pensato che la busta contenesse documenti relativi al lavoro. Con un certo stupore, iniziò a leggere la lettera di sua nonna. La lettera di sua nonna. Giovanni, sei la persona più cara della mia vita e lo sarai sempre. Sappi che hai una nonna che ti accoglierà e capirà qualsiasi cosa accada. Sei ormai un adulto. Stai per creare una famiglia con una splendida e meritevole ragazza. E sono felice per te, felice per entrambi. Ora, riguardo alla cosa più importante. La tua relazione con tua madre non è stata delle più facili. Lo sai. Ma in molti aspetti ha ragione. L'indipendenza finanziaria e il benessere, sebbene non siano tutto, sono importanti, soprattutto per un uomo che deve mantenere la sua famiglia. So che hai molte responsabilità sulle tue spalle. La vita moderna è dura, specialmente per i giovani, che spesso hanno bisogno di aiuto e supporto. E io voglio dartelo. Sai, Giovanni, che ho lavorato duramente per tutta la mia vita, ma ho vissuto modestamente. Non ho potuto permettermi di comprarti costosi giocattoli o vestiti, anche se avrei voluto. Non ho potuto portarti in vacanza. Ma ho visto che hai avuto tutto questo dai tuoi genitori e da me. Ho cercato di darti altre cose, attenzione, cura, conoscenza e, alla fine, risorse. Ho risparmiato denaro per molto tempo e sono riuscita a comprare un appartamento in una zona prestigiosa. Nessuno lo sa, tranne Tatiana, in caso qualcosa mi succeda. È vero, il restauro non è ancora finito, non ho avuto il tempo, ma l'appartamento è abitabile. Nella busta ci sono i documenti per la proprietà. Una donazione intestata a te e le chiavi. Con affetto, tua nonna Lidia. Giovanni fissava incredulo la lettera e non poteva credere ai suoi occhi. Per tutto il tempo chi poteva ricordare, sua nonna Lidia aveva sempre risparmiato su ogni piccola cosa. Si è scoperto che tutto ciò era stato fatto solo per accumulare abbastanza denaro per comprargli un appartamento. Giovanni non poteva aspettare la fine della giornata lavorativa. È saltato subito nella sua auto ed è corso dalla nonna. Perché non sei al lavoro? Si meravigliò Lidia quando lo vide. Poi notò lo stato d'animo del nipote. Ah, hai ricevuto la mia lettera. Il corriere deve aver sbagliato. Doveva consegnarla dopo il matrimonio. Nonna, perdonami, esclamò il ragazzo. Le lacrime gli vennero agli occhi. Che sciocco sono stato a ascoltare mia madre. Ma no, devi ascoltare tua madre. Se parli del matrimonio, nemmeno io volevo andarci. Io e Tatiana. Nonna, per favore, partecipa alla nostra festa. Mi hai cresciuto. Voglio che tu sia presente in un giorno così importante. E cosa dire Diana? Non voglio conflitti. Parlerò con lei. Capirà tutto. Lei? Beh, sai com'è. Giovanni improvvisamente sorrise felicemente. Quando scoprirà della casa, cambierà immediatamente il suo atteggiamento nei tuoi confronti. Probabilmente. Lydia sorrise anche. Solo non pensare che ti stia chiamando solo per il regalo. Il nipote si fece serio improvvisamente. Capisco come può sembrare. Ma... Ma cosa mi stai spiegando? So tutto da sola. Lydia abbracciò forte il nipote. Il matrimonio fu semplicemente meraviglioso, come aveva sognato Anna. La celebrazione andò benissimo. Nel discorso di accompagnamento, la madre dello sposo con orgoglio rivelò agli ospiti che dalla loro parte dello sposo stavano regalando un appartamento agli sposi. Non specificò chi stesse facendo il regalo. In quel momento, Giovanni e Lydia si scambiarono uno sguardo e sorridero. Certo. La nonna era qui. Giovanni presentò il suo amico di sicurezza a sua nonna. Era compito di questo guardia del corpo prenderla al mattino e portarla in giro per i luoghi del matrimonio. La casa della sposa, l'ufficio matrimoniale, le belle location della città dove si teneva la sessione fotografica, il ristorante. Lydia si stava godendo il matrimonio del nipote. Era un matrimonio bellissimo, con ospiti felici e una coppia di sposi felice. Aveva la sensazione che la famiglia di suo nipote sarebbe stata felice e armoniosa. Nonostante le aspettative della futura nuora, Lydia aveva preso parte alle celebrazioni con dignità. I suoi eleganti abiti verdi scuro e le scarpe a basso tacco creavano un'immagine molto raffinata. Anna lo apprezzò. Ai genitori di Elena Piacque molto interagire con questa donna intelligente e colta. Dimitri era una persona erudita e belletta. Avevano trovato molte tematiche interessanti per le loro conversazioni. Sono così felice che i miei futuri nipoti abbiano una bisnonna così, confessò lui. Spero che tu li porti spesso a trovarla. Certamente, confermò Giovanni. Fallo di sicuro. Voglio che abbiano un angolo di pace e serenità nella loro vita. E cosa ne dice? Io sarei felice, sorrise Lydia. Ci sono così tanti strumenti educativi meravigliosi per insegnare l'inglese ai bambini adesso. Non vedo l'ora di iniziare. Portami con un like e iscriviti.